L'ho riavvolto la cassetta, l'ho fatta partire e non c'è niente. Sul serio? Questo film non si vede. Anche la vostra fa così. Guarda, 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 le cassette sono tutte vuote! È la TV, Mike. Fammi vedere. Che hai che non va? Perché fa così quando fai così? Sei magnetizzato! Tu hai cancellato tutti i miei film! Sei stato tu! Dobbiamo trovare altre cassette. Ho un'idea migliore. Vieni con me. Bye! When walking down the street... Sì? ...and you see a little ghost... Sì. What you gonna do about Ghostbusters? Che roba è? È il tema di Ghostbusters, la canzone? No. Sono piuttosto sicuro. Resta dove sei, sto per arrivare! Mi ha smerdato! Non era male. Avete altro? Io ti ucciderò! E ti avverto che conosco il Robo Carota! Questi non sono dei semplici remake. Sì, Gino, Gino! Oh no, ma che succede al nostro quartiere? La nostra versione è migliore. La nostra versione dura solo 20 minuti. Siamo delle star ormai, le persone mi riconoscono per strada. Su, dagli in bacio, dagli in bacio, adesso! Aspetta l'acchio! Perché io devo baciare Wilson? Devi impedire che ti faccia esplodere la testa. Io non lo bacio Wilson. Gilettanti. La gente vuole vedere questi film. Sono dei grandi, sanno girare qualsiasi genere. Voi scegliete? E noi giriamo. Be kind, rewind. Gli acchiappa film. No, no, venga. Hai film che hanno un cuore? A spasso con desi. A che? A che? A che? Non è questo il posto. Ochi, sei sordo per caso? Spiantala. Non ti azzardare a parlarmi così. Veloce come il vento, corre! Corri, Ochi! No, no, no! Non ti azzardare a parlarmi così.